Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video commentary Io sono Scacco Matto e oggi parleremo di un argomento molto discusso su youtube Di cui sono stati fatti molti video Proprio perchè è un argomento non facile da trattare E ognuno ha la sua ispirazione o non ha i suoi pensieri Il titolo di questo video è come fare un video di qualità Ecco innanzitutto iniziamo col dire cos'è un video di qualità Un video di qualità è un video che presenta dei contenuti e un aspetto grafico apprezzabili da un grosso quantitativo di pubblico Questo che vuol dire che un video per essere di qualità deve presentare degli aspetti minimi E infatti noi andremo a vedere quali sono questi aspetti Innanzitutto partiamo da quello più evidente ovvero l'aspetto grafico e video proprio video Nel senso se noi pubblichiamo un video a 240p Cioè una qualità molto bassa Il pubblico non apprezzerà almeno nell'immediato questo video Perchè lo considererà un qualcosa di brutto Di non guardabile Quindi già l'impatto che può dare un video di una qualità bassa è molto importante Quindi il primo consiglio per fare un video veramente di qualità Cercare in tutti i modi di ottenere la massima qualità possibile Naturalmente in base alla tipologia di video che fate ci sono diversi modi Se riprendete giochi quindi sul computer userete programmi appositi come action, history, fraps Se fate video ad esempio dal vivo dovete comprare una fotocamera o una telecamera che riprenda in HD Se non meglio in full HD E nel caso invece facciate video di qualsiasi altra tipologia Quindi anche video musicali Qualsiasi altra tipologia di video dovrete procurarvi degli strumenti che vi permettino di creare un contenuto bello Quindi la prima cosa ripeto La qualità video deve essere sempre altra e superiore all'HD Ovvero a 720p Questo che vuol dire che se voi riprendete un qualcosa con una qualità molto scarsa E poi durante la fase di rendering L'andate ad aumentare Quindi ad esempio riprendete in 240p Poi quando l'andate a renderizzare su un programma apposito come Sony Vegas Se lo mettete a 1080p non otterrete la vera e propria qualità 1080p Perché non è la qualità nativa Ecco quindi la cosa importante è ottenere una qualità nativa di 1080p Anzi meglio 720p Che è una qualità buona, molto buona Che però appunto può La maggior parte dei computer, delle connessioni in Italia può sopportare Perché la qualità massima attuale, ovvero 1080p Tutt'ora in Italia pochi la usano come default di YouTube Bene, per non perdere troppo tempo sull'argomento qualità video Passiamo subito all'argomento qualità audio Allora, qui la cosa è un po' più semplice Anche se forse più costosa Per poter aumentare la qualità audio dei vostri video Avrete bisogno sicuramente di un dispositivo di ripresa audio Sul computer o su ulteriori console Troveremo sempre i microfoni, i microfoni da scrivania O cuffie con microfono Vi consiglio di comprare se non ce l'avete O se avete un microfono integrato nella webcam ad esempio Un microfono da scrivania Se volete iniziare su YouTube O se già giocate da molto tempo sulle console Delle cuffie da gaming Composte di microfono Allora, per quanto riguarda i microfoni da scrivania Vi consiglio dei microfoni buoni Mi sembra siano della Samsung o della Logitech Sulla ventina di euro Controllate che sia di buona qualità Perché se no sarà praticamente un acquisto del tutto futile Per quanto invece riguarda cuffie da gaming Diciamo che la quota minima Per ottenere delle cuffie di qualità È 70 euro Naturalmente accetto i vostri commenti Se magari avete qualcosa da ridire Magari avete delle cuffie e avete pagato 30 euro E che hanno una qualità audio stupenda Sono qua apposta Bene Dopo aver passato questi due aspetti Che sono quelli fondamentali Passiamo ai contenuti Purtroppo i contenuti Come stavo spiegando prima Passano in secondo piano Perché? Perché noi possiamo fare il video più bello del mondo Però se la qualità audio video è bruttissima Diciamo al primo impatto Le persone vedranno il nostro video E lo scarteranno a priori Ovvero diranno questo video Anche se è un video fatto bene Magari loro non lo sanno È un video brutto E quindi chiuderanno Noi dobbiamo dare l'impatto immediato Alla persona che visualizza il nostro video Per fargli capire che questo video è un video di qualità Un video bello E quindi cercare il più possibile Di fare in modo che questa persona rimanga Connessa Rimanga a guardare il nostro video Se non riusciremo in questo Avremo Anzi Potremmo Più che avremo Potremmo dire Di essere riusciti a fare un video di qualità Quindi Qualità Video Audio E contenuti I contenuti naturalmente si basano sulle vostre scelte Vi consiglio di essere originali Perché su Youtube Se non si è originali È difficile uscire dalla massa Io stesso con questo video sto facendo una specie di contro esempio Contro qualcosa Perché in realtà Questo video è stato fatto Tipologia di video è stato fatto molte molte volte Però lo dico nel modo mio Tramite un commentary su Black Ops 2 Tramite la mia voce Quindi cercando di personalizzarla Al più possibile In modo da rendere un video Magari già visto Più volte Un video diverso Un video più divertente Un video più interessante È questo quindi il vostro obiettivo In base Cioè Nell'argomento contenuti Cercare di rendere Un argomento Se già trattato Trattato diversamente Quindi secondo un altro punto di vista Proprio per questo Ho stilato una lista di commentary ad esempio O di altre tipologie di video Che non ho cercato su Youtube Ma semplicemente Mi sono preso un'ora o due di pensiero Mi sono messo a scrivere E mi sono venute varie idee Naturalmente queste sono idee originali Perché semplicemente Ho preso un blocco note Sul computer E ho iniziato a scrivere Quindi sono idee che mi sono venute Così spontanee Magari leggendo un giornale Magari leggendo Un altro canale Non si può mai sapere Ma non è questo l'importante L'importante è sapere cosa dire Ad esempio In questo commentary Io non sto Non tengo sotto Un copione O una scaletta No Io i commentary Li faccio liberi Liberi di vivere Liberi di farli Perché secondo me Quello che si esprime sul momento È meglio di qualcosa Preparato sotto Che quindi spesso Almeno nelle video recensioni A mio parere Risulta poi troppo meccanico Si sente quella voce Che non è una voce spontanea Come la mia In questo momento Che si inventa le cose sul momento È una voce meccanica Che sa proprio di foglio sotto il naso Quindi un altro consiglio Per fare un video di qualità È essere spontanei Fare un video che piace fare a voi Che sa attirare persone Che può interessare alle persone Perché se voi fate ad esempio Un video di cani E il vostro canale parla dei giochi Naturalmente il vostro pubblico Non sarà attratto da questa tipologia di video Quindi voi dovete essere ulteriormente coerenti Con il vostro canale Se voi avete il vostro canale Che parla di Minecraft Evitate di fare video di Black Ops 2 Almeno che non lo iniziate a fare dall'inizio Questo che vuol dire Che quando voi inizierete a fare l'inizio Black Ops 2 ad esempio Minecraft e vlog Come sto facendo io ad esempio Gli iscritti verranno da queste parti Fuse insieme Quindi saranno iscritti Che si interesseranno sia A video di Minecraft Sia video di Black Ops 2 E se non sarà così Si creeranno dei mini gruppi Nel vostro canale Alcuni seguiranno Minecraft Altri Black Ops 2 Però sapendo sempre Che sul vostro canale Sono presenti questi giochi Questo è una cosa fondamentale Infine per finire Questo lungo discorso Volevo semplicemente dire Per favore Non spammate il vostro canale Non chiedete sub for sub Iscriviti e ricambio Perché è una forma Assolutamente errata Di farsi conoscere E vi spiego subito perché I vostri nuovi Nuovi Tra virgolette Iscritti Verranno da voi Verranno da voi E si iscriveranno Ma non avranno interesse A seguire il vostro canale Quindi cosa succederà Che avrete Molti iscritti Ma nessuna visualizzazione Perché gli iscritti Certo sono le persone Dovrebbero seguirti Ma le visualizzazioni Sono le persone Che guardano i tuoi video Questo rapporto Deve essere pari O anzi meglio Visual alte Ma anche iscritti alti Proporzionali Quindi ragazzi Per questo video Commentari è tutto Spero vi possa interessare Io sono Scacomatto E ci sentiamo Con un prossimo video Ciao a tutti